Patrizia, è difficile commentare una partita del genere, insomma sono partite che di solito si vincono magari anche in maniera larga invece il secondo gol non è mai arrivato oppure era arrivato, c'è stato questo fischio che lo ha annullato e poi è arrivata la beffa finale Sì, noi dovevamo chiudere la partita prima perché le occasioni le abbiamo avute e dovevamo essere sicuramente più cattive sottoporta ma anche in mezzo al campo dovevamo essere più, in ogni zona del campo dovevamo essere più cattive e mettere al sicuro la partita poi il calcio purtroppo è così, capita una mischia e alla fine è una partita strameritata, alla fine vai a pareggiarla siamo stati un po' coglioni a cosa si può dire Adesso a Cuneo bisogna vincere e anche dimostrare di essere una squadra di alta classifica Beh, sì, adesso bisognerà innanzitutto prima smaltire un po' la delusione perché è tanta perché abbiamo perso una buona occasione per andare in vetta da sole e ripeto, dobbiamo rivedere tutti gli errori che abbiamo commessi perché ne abbiamo commessi tanti e poi durante la settimana penseremo poi alcune però adesso dobbiamo prima cercare di smaltire questa delusione uno stadio finalmente pieno, 6-700 persone, tanta attenzione, tanti giovani, tante famiglie a sostenere le gialloblu Sì, quello è stato sicuramente una cosa super positiva la partita non è andata come ci aspettavamo ma fino al 93esimo praticamente la partita è stata tutta a favore nostro logicamente le nostre avversarie hanno giocato sempre in difesa da quello che ho visto e per quello che me ne intendo io hanno trovato questo gol con una partita secondo me che non è stata grandissimamente arbitrata bene perché anche quel calcio d'angolo che gli è stato segnato era un calcio d'angolo a nostro favore, cioè quindi una rimessa dal fondo questo è quello che io ho visto dagli spalti ma sicuramente le telecamere e i video potranno sicuramente capire meglio come è andata comunque in qualsiasi caso abbiamo pareggiato pareggiare al 93esimo è sicuramente una beffa incredibile una beffa incredibile per tutti noi che ogni giorno siamo qui praticamente per far sì che questo che questo Verona a GSM calcio femminile sia sempre ai massimi vertici però insomma il campionato è ancora lungo abbiamo oggi abbiamo lasciato sul campo due punti che erano sicuramente meritati quindi